I scavi di Pompei sono stati nuovamente deturpati. Questa volta non è la mancanza di manutenzione della più nota area archeologica del mondo che fa notizia, ma l'affidamento irregolare dei lavori per restaurare il teatro grande. La Guardia di Finanza, che sta curando l'operazione, parla di anomale modalità di assegnamento dei contratti. Cinque persone accusate di corruzione, frode e abuso d'ufficio. Tra queste c'è anche un'arrestata finita ai domiciliari, Anna Maria Cannavò, rappresentante legale della società affidataria di alcuni dei lavori nell'area archeologica. Indagato anche lui per abuso d'ufficio, l'ex commissario degli scavi di Pompei, Marcello Fiori. L'appalto dei lavori, infatti, è stato eseguito nel periodo di commissariamento sotto la gestione della protezione civile.